Musica Musica Ben ritrovati in studio per una nuova puntata di Bocce Forum e diamo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, Carluccio Martignoni, ben ritrovato. Buonasera. E Mauro Giudici, presidente della società Beigiorna, proprio perché di questa parliamo oggi, una società dalla lunga storia, con sede a Laveno, anche se giocate sui campi di Brenta, e una società che in realtà prima di diventare società a tutti gli effetti è stato un vero e proprio club di amici, che è nato ben nel 2001, quindi insomma una lunga storia quella da raccontare. Effettivamente noi siamo partiti ancora prima della società bocciofila, facendo un club di amici, cercando di rivitalizzare un po' il gioco delle bocce nel Varesotto. Quindi abbiamo formato questo club qua, partecipavano giocatori che erano in altre società, quindi era proprio un gruppo di amici che si sono ritrovati per far sì che questo gioco, con queste nostre passioni, venisse divulgato sempre di più. In quegli anni lì, che stiamo parlando verso il 2003-2004, abbiamo fatto due importanti iniziative, una è quella con i ragazzi diversamente abili, che è un'edizione che stiamo conducendo da più di 16 anni, che è nata proprio con il club, e un'altra iniziativa importante è stata quella che abbiamo sistemato dei campi di Boccia-Brenta, insieme alla Proloco, e quindi siamo riusciti a far ripartire due campi che erano completamente dismessi. Quindi è da lì che è nata un po' tutta la passione. Dopo è subentrato la voglia di fare qualcosa di più, ed è passato a un discorso di società bocciofila, agonistica, nel 2011. Ed appunto siete circa 25 tesserati che vi muovete anche su tutto il territorio, dunque non si gioca soltanto a Brenta perché l'obiettivo è anche quello di gareggiare in altri territori, Lombardia, Piemonte, insomma siete sempre in giro. Sì, noi appunto siamo 25 tesserati, l'anno scorso facevo i conti proprio questa mattina, abbiamo fatto 120 gare in giro appunto nei comitati di mito, abbiamo iscritto circa 400 formazioni, quindi vuol dire che ogni gara sono 3-4 formazioni nostre che vanno a giocare. Non ci limitiamo a quello perché come gruppo ci piace anche magari evadere, andare a Reggio Emilia, a Modena, fare gare un po' particolari, ma soprattutto per stare in compagnia, cioè facciamo queste gite trasferte per stare insieme, per vivere il mondo delle bocci in maniera anche un po' diversa dalle solite cose. Quindi Carluccio possiamo dire un vero fiore all'occhiello per il territorio? Sì, anche perché a differenza delle solite società che conosciamo, è una società giovane anche di giovani, perché sono molti giovani che giocano con loro ed è questo molto bello. Poi quello di aver inventato questo sistema con internet www.veigiorna.com dove tutti gli appassionati possano collegarsi e vedere gli andamenti della loro società, ma anche della provincia e anche nazionale, se è il caso. Perciò questo è anche molto bello e importante. E poi il fatto stesso che riescono a dare un contributo anche sul sociale che non è indifferente, veramente. Questo è un merito di Mauro, ma di tutta la sua compagnia, che veramente hanno, fanno delle cose veramente molto importanti. Una testimonianza è data dal fatto che quando fanno una manifestazione a Brenta d'estate penso che non si possono contare le persone, perché è sempre un numero inusitato di, normalmente da vedere le voce, ci sono tante persone, ma lì non è il fatto dei soliti uomini, delle solite appassionati. Molte donne, molte persone, molte famiglie che vanno a Brenta a vedere giocare, che siano i disabili, che siano le donne o che siano i giocatori normali, però è bello quello. Insomma, questo è un merito a Mauro e a tutta la società. Sì, questo perché noi cerchiamo, vabbè, oltre a fare le gare FIB classiche, cerchiamo di coinvolgere anche la gente, soprattutto nei periodi estivi, perché la struttura sua è aperta, solo coperta, invogliando un po' la gente a provare a giocare a bocce, soprattutto anche le donne. E questo diciamo che è quello che serve, perché in quest'epoca si fa molto fatica a portare soprattutto i giovani nelle bocciofile, avvicinarli a questa disciplina. E quindi, insomma, è l'odevole quello che fate. Diceva Carluccio, avete un sito internet, lo vediamo anche qui, appunto alle nostre spalle, www.begerna.com, quindi voi avete proprio deciso di dedicare uno spazio virtuale a questa passione per le bocce. Crediamo tantissimo nella digitalizzazione, questo sito qua è nato addirittura nel 2001, è diventato un po' un punto di riferimento con gli anni, adesso chiaramente abbiamo dovuto aggiornarlo con le nuove tecnologie, quindi siamo dati anche su Facebook, Instagram, quelle cose qua, però per noi rimane importante perché i nostri iscritti possono scegliere quale gara fare attraverso il nostro sito, quindi abbiamo una bacheca che la chiamiamo virtuale, dove uno va, si iscrive e dopo, sempre con i sistemi informativi, vede dove va a giocare, quindi è tutta una cosa... Più semplice anche da gestire, che magari riesce a avvicinare anche i giovani proprio per questo. Certamente, questo sì, infatti l'informatica ai giovani è sempre molto più semplice rispetto a... Certo, è più attinente, mettiamola così. Diciamo una comunicazione importante, che da questa puntata sarà continua la pubblicazione delle nostre trasmissioni sul sito di Bay Journal. Perciò questa sarà... Sì, sì, no, secondo noi è importante perché il prodotto c'è... Sì, dovresti fare una pagina specifica solo per quello, in modo tale che chi vuole va dentro e vede... Per diffondere le informazioni, insomma, per aiutarci in un con l'altro, in pratica, assolutamente. Un po' di marketing. È certo. Come lo sta facendo la federazione, perché la federazione sta facendo un lavoro molto importante su questo punto di vista. A parte la digitalizzazione anche di tutte le iscrizioni, che non mai sapete bene cosa è stato fatto, ma anche a livello di streaming, è stato fatto un lavoro enorme, perché fanno vedere appunto le gare importanti e soprattutto, io ricordo all'inizio di gennaio, la gara di Budriot nel Pallino d'Oro, mi ricordo che ero collegato alle 8 di sera, di un sabato sera, c'erano 1500 persone collegate a vedere questa... C'erano anch'io. Quindi, insomma, è importante riuscire a rendere sempre più tecnologico-digitale anche questo mondo, quello delle bocce, sia per chi già si è appassionato, sia per chi desideri magari avvicinarsi, quindi lo può fare anche comodamente da casa con un computer. Assolutamente. Ma quali sono i vostri cavalli di battaglia? Diciamo, parlavamo prima di gare, soprattutto estive, che attirano persone di tutte le età, e quali sono un po' questi appuntamenti più significativi? Allora, adesso un appuntamento importante è che proprio in questi giorni qua noi stiamo facendo il campionato di società, e quindi abbiamo un importante incontro sabato prossimo a Borgomanero, che se pareggiamo dovremmo riuscire a passare il turno. Quindi adesso siamo focalizzati lì. Tra l'altro per fare questo campionato abbiamo preso nuovi acquisti, abbiamo nominato un CT di lunga esperienza come Gabriele Bellorini, che ci aiuta appunto a armonizzare tutto il gruppo. Quindi adesso siamo focalizzati su questo. Poi sicuramente d'estate noi faremo una gara FIB sui campi di Brent, faremo la diciassettesima edizione insieme con le bocce, appunto con i ragazzi diversamente abili, e poi ultimamente stiamo collaborando anche con gli oratori e soprattutto anche con la Bederese tramite Bramani per sensibilizzare il gioco delle bocce nei ragazzi. Nelle scuole. Nelle scuole, ma non nelle palestre delle scuole, ma prendere i ragazzi e portarli nel bocciodromo, che credo sia più importante. Eh sì, perché purtroppo manca questo aspetto, forse una volta ci si avvicinava a questo gioco tramite i nonni, papà, adesso questa cosa non c'è più, e quindi bisogna riuscire a portarli fuori dalle aule scolastiche, portarli appunto in bocciofila. Sarebbe molto bello riuscirci sicuramente. Ci vuole l'idea, ci vuole la passione, ci vuole la costanza per portare avanti quelle cose qua. Sì, anche perché i giovani sono attratti da sport più popolari, che non sono le bocce. Però quando si avvicinano le bocce, ci sono quelli che veramente ci stanno volentieri, perché ci divertono veramente. Giocare al calcio non è da tutti. Qualcuno dovrà anche rinunciarci e arrivare da noi. Potrebbe farlo perché è uno sport che possono fare veramente tutti. Non ci sono considerato quello che succede, in particolare per i disabili. Pertanto se lo fanno è una cosa che possiamo fare gli anziani, le donne, i giovani, i disabili, perciò è uno sport di tutti. E a diverse età. È lo sport più antico del mondo, perciò mi pare che sia utile. E certo, ma anche perché poi ci sono giovani che si innamorano di questo sport. Abbiamo avuto qui anche qualche campione particolarmente giovane, quindi insomma non è detto che non debba piacere ai più giovani. Abbiamo visto Butrione, la gara trasmessa in streaming, in finale erano solo giovani, il più anziano erano 35 anni. Insomma, ma meno male, perché è un po' a svecchiare l'immagine di questo sport. Abbiamo visto uno spettacolo vero, perché lì è una qualità superlativa. Insomma, noi giochiamo a voce per passione, anche agonisticamente, però quando vediamo questi campioni, diciamo, insomma, il livello è veramente... Beh, insomma, una nuova leva, una nuova generazione. Ma poi prendi anche stimoli. Certo. Perché il problema è prendere stimoli vedendo questi giocatori qua di un certo livello, magari ti viene voglia anche di dare un po' di più. Di migliorarti. Di migliorarti. Bene. Volevo annunciare già la puntata della settimana prossima. Sì, va bene, anticipiamolo. Noi avremo ospite invece Oscar Butti, presidente nazionale arbitri, e saremo, prima di tutto siamo contenti di averlo, perché finalmente riesci a trovare un po' di tempo. e penso che faremo anche due puntate, perché carne al fuoco per gli arbitri ce n'è tanta. Certo, quindi insomma, lo rinviteremo qui più volte. Bene, grazie mille intanto per questa anticipazione e ovviamente intanto in bocca al lupo a voi di Begiornà per le prossime gare, per le vostre attività, anche con i disabili che ci stanno tanto a cuore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi da casa, ovviamente alla prossima puntata di Bocce Forum. Arrivederci. Grazie a voi.